il tempo mi darà ragione vediamo se riusciamo a uscire questo con la motosega arriva eh vai ah vedi oh ah vedi facendo risparmi abbiamo capito come funziona aspetta fammi raccogliere le diminezioni spacca il culo no 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 deve stare vicino deve stare molto vicino bene ok mira vediamo no aspetta è una volta sola no ragazzo che è successo mi hai fatto prendere la scossa no no andiamo 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 vai oh via via siamo in mezzo ai casinati adesso ma che hai capito come funzionava puttana è la puttana non è che non devi far colpire la motosega sul generatore se lui fa così ti scansi eh ma non è un po' piccola no no vedi che lo favo ci vuol dire guarda che può essere devi far così Mario vedete che è così Mario ti fa così capito ma come fai a farlo ti metti vicino al generatore lui ti va a farlo di cazzo da lontani e sta cazzo di suo dopo è così eh secondo me è così non devi sparare al generatore o vado colpito a lui però il generatore come fai a farlo se è realistico con la motosega deve darlo come fai? no 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 non starà lui spieghi solo colpi fai di caricare no poi ci ho capito cazzo quando sta laggiù mi sa capito come ok quando sta in giù gli dai mi metti a sottone hai capito? ah tu dici eh però tu quella fa quando ho detto io ok rispetto perché se ho capito oh mia? no mi sono scanzata preso a lei mi sono scanzata mi dispiace non è stato riuscito a uscire il mostro ho resistito tantissimo ma riproviamo? e questo quando qui stava per terra così? può essere se andavi vicino bam capito come dai cosa ci vuole essere questa cosa? se è veramente difficile così cavolo questo gioco è da paura è difficilissimo ragazzi comunque era dai proviamo a uccidere ma facciamo un video solo quando becchi a lui e vediamo come lo ragazzi come tempo e beh noi riprendiamo quando ok a dopo allora vediamo se riesce a uscire questa bestia ok arrivederci